Grande successo per l'undicesima edizione delle Fonti Awards, tenutasi giovedì 1 luglio, in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio a Milano. Durante la cerimonia, svoltasi all'aperto e nel pieno rispetto delle regole anti-Covid, sono state celebrate quelle realtà e quei professionisti che, nonostante la pandemia e la conseguente crisi economica, hanno affrontato gli ultimi mesi con grande professionalità, mantenendo alti livelli di eccellenza nei rispettivi ambiti di competenza e investendo in settori particolarmente strategici e innovativi. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Il nome del premio è Eccellenza dell'anno, Innovazione e Leadership Sistemi di Sicurezza. Il premio va a Very Sure Italia. Per essere un leader indiscusso nell'ambito dei sistemi di allarme per abitazioni private e business, grazie a un approccio improntato su innovazione costante, ascolto dei clienti, fiducia e responsabilità per la qualità dei servizi e per la capacità di attrarre talenti e promuovere passione e lavoro di squadra. Eccolo qui, benvenuto. Complimenti anche per lei il palco con le foto di Rito. Complimenti, grazie a Very Sure Italia. L'innovazione e l'attenzione al cliente sono i fattori chiave che da sempre contraddistinguono la multinazionale di sicurezza e che l'hanno portata ad essere leader del mercato sia in Europa che in Italia. Very Sure lavora con la mission di offrire la migliore protezione possibile a sempre più persone e per farlo innova continuamente prodotti e servizi e lavora con responsabilità, affidabilità e passione. È stata la prima azienda a sviluppare un allarme monitorato da centrale operativa specifico per la protezione di case e negozi. Nel 2019 ha rivoluzionato il mercato degli allarmi con il fumogeno Zero Vision, premiato come prodotto dell'anno 2021 per l'innovazione e la soddisfazione dei consumatori. Oggi ha stretto una strategic partnership con Arlo Europe, leader nel settore delle telecamere wireless intelligenti, per potenziare ancora l'offerta di sicurezza e videosorveglianza con prodotti top di gamma. I prossimi obiettivi sono quelli di continuare ad investire in Italia, nell'innovazione tecnologica, nelle persone, nel lavoro e nel territorio, per offrire il proprio servizio in tutta Italia, raddoppiare i posti di lavoro e proteggere più di mezzo milione di clienti entro il 2025. Siamo grati e fieri di essere premiati per l'innovazione e la leadership e ci confirma che stiamo lavorando bene. Ringrazio le fonti per questo riconoscimento e ringrazio tutte le persone è very sure perché ogni traguardo è frutto del lavoro di squadra, della passione, della voglia di amare e fare sempre la differenza.